Ma cosa siamo venuti a fare qua, Elisa, oggi? Ma, 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 aspetta che mi trovo il cappello, eh? Buongiorno a tutti, buongiorno. Tienemi il cappello, per favore, lo mettiamo qua. Ah, benissimo. Allora, cosa siamo venuti a fare qua oggi? Siamo venuti a mangiare le caramelle. No, questa non è carabella. Allora, siamo venuti a giocare... Solito a panelle? Elisa, non capisco, che cosa possiamo fare qua? Che cosa ci viene a fare questa gente? Non capisco, sono un pochino stressato. Come faccio? Bimbi, aiutate, potete aiutarmi a dire che cosa stiamo facendo qua? Grazie a tutti